che cos'è il primo pacchetto tedesco portiere trap iniziamo con 86 che diciamo non è brutta brutta come cosa ragazzi non è brutta brutta come cosa ragazzi iniziamo con un altro player eccolo 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 no gear eccolo peccato vado quanto è bello però il il design della carta onesto merita tantissimo merita veramente tanto raga eh oddio ok pure io pensavo che fosse 90 ma non è 90 oh icona francese dc blanca blanca vavos vavos blanca sotto un mappè dammi un mappè sotto va dammi sotto un mappè ma me lo devi dare zi marquinhos beh però tanta robetta eh devo dire tanta ma tanta robetta comunque sa dai vogliamo il biondino vogliamo ricciarvi si dai vabbè inglese eh ti di no il buon trend vabbè dai vado troppato già tanto eh l'abbiamo spremuto l'abbiamo spremuto comunque abbiamo trovato anche parecchia robetta comunque dai ci sta purtroppo vabbè ma costa tanto costa tanto eh di certo non te lo regalano ragazzi fidatevi quei ricciai se non te lo regalano costa ma pure è pure del Brasile zi la carta è bellissima la carta è stupenda guardate lì se nella carta quanto è bello c'è è uno spettacolo è uno spettacolo zi uno spettacolo o gli arzabal o gli arzabal o gli arzabal o gli arzabal se mi dita buona assolutamente sì ma si la fa si la marcoli come stai grandissimo no ma c'era lui joystick non ce l'ho io ah no bugia ce l'ho io bugia no ce l'ho io ce l'ho io andanovic e non credo siano andati in rounds ma guardiamo subito te lo faccio vedere subito eh ma non credo siano andati in rounds non credo ma vediamo aspetta eh oh chi era chi era simon chi era signori mamma mia tra i 18 e il 25 da te tra i 18 e il 25 mazza il design è bello 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 il design tanta roba vediamo della di rounds eh sì la di rounds la di rounds la di rounds ben tornato popper grandissimo meno di un anno eh grande come stai avanti tutto bene ma non ti preoccupare se hai bisogno chiedi fra sei bisogno chiedi vai tranquillo che cos'è brutto e bravo bravo boss bravissimo bravissima eh speriamo bene lupo tu quindi bello no le icon che c'hanno prima mi sa che non si posso più trovare adesso no nada è nada e eh l'attività non so ce li bullapiamo un attimo quasi quasi eh quasi quasi sarebbe il top del top ma vediamo ragazzi perché sono tanti pacchetti eh sono tanti pacchetti sì ma io voglio i 100mila cioè i 100mila sono mille che mila sono di meno le icons eh e come su aretz ma due le bruttissimi pacchetti aprire un po' di pacchetti ok ecco io qua lo dicevo oddio argentina chi è questo qua eh non c'è nulla non c'è nessuna nessun pacchetto ripetibile giusto ok bravo bravo boss bravo popper ok questo la possiamo buttare sopra poi andiamo con un altro picchettino ma te piccate la vuoi le vizzerà più ah vabbè vizzer bella busta pure bella ma è vizzer pure si ragazzi la betto è pacchetti pesanti qualcuno ha pacchetti da 84 o più tipo roba del genere vabbè fatemi sapere ma vediamo è vero è il buon pepone è il buon pepone è il buon pepone questo concetto queste carte qua secondo me dinamiche eh dinamiche avrebbero spaccato lente tutto secondo me ragazzi dinamiche dinamiche sì secondo me è un pelo meglio e un pelo meglio un pelo meglio un pelo meglio eh il buon 77 vabbè dopodomani uscirà l'icon domani icon più hero insomma potrebbe arrivare anche una bella hero golosa grazie mille grazie eh i giocatori stanno eh e stanno 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 ragazzi adesso è un tuo giorno per il giornato mercoledì dovrebbe essere il giorno mercoledì sì potrebbero mettere l'icona e l'iro le carte sono statiche sono purtroppo statiche voglio vedere i walk out com'è è l'evento ragazzi eh vabbè van dyke non so giocatori dinamici ragazzi non so non c'è un bappé non c'è un giocatore come bappé ragazzi no no stanno le dinamiche che stanno stanno è che le devono giornare sì l'evento l'evento dov'è il pick ma il pick ragazzi lo prendi dalla vl dalla vl 60 50 20 10 negozi ok ok saranno 60 in totale sì sono un bel posto un bel po ragazzi dai penso di sì come ma sì ci sta scappato vince non hanno scappato ancora o lo scappano o lì ne butta ne butta una ventina sul mercato e scende il prezzo dipende e no stanno le dinamiche solo che hanno messo il gioco non l'hanno messo ragazzi sì rimane così rimane così sai quando potrebbero aggiornarlo mercoledì o martedì o mercoledì magari stati vuol dire che non si muovono cioè sono sono così dinamiche cioè così come le vedi dinamiche vuol dire che posso avere delle upgrade vediamo no no oggi non è roba di token oggi vogliono che la concentrazione tu ricordi sempre una cosa ok ok la concentrazione quando esce una sfida c'è una un evento del genere deve essere soltanto sole soltanto su quello che diventerà la passo a fare cioè ricordatevi questa cosa quando c'è l'evento la ye non butta la concentrazione deve essere quello e basta quello e basta nient'altro da domani metteranno altre robe sì sì le 20 atleti si faranno ci saranno i winter wild anche ci sarà un bel po di roba ragazzi non preoccupatevi ci sarà un po di roba golosa intanto vediamo se riuscire a beccar gente no gente buona qui intanto vediamo se magari ci c'è troppo qualcosa e metteranno il giro di me no ma si li metteranno li metteranno boss vedrai vedrai fidatevi sì li metteranno ma penso che le vanno a sistemare le icon già adesso italia attaccante immobile mamma mia i tutti proviamo magari a trovarli vediamo un attimo un bel rushford così per il meme vabbè cross 88 senti che odore niente di incredibile sicuramente niente di incredibile lukaku donnarumma prenderete donnarumma sicuramente andrei su donnarumma me lo taglio nel nuovo evento niente non me lo vuole dare sulle 85 non me lo vuole dare ragazzi non me lo vuole dare magari troviamo qui adesso ragazzi a perché tanto vi ricordo che i premi della week in league nei premi della week in league ci saranno comunque questi giocatori magari se sbaglio da li fanno trovare che questo scesdi volevando oschi bello eusebio ragazzi devastante ragazzi eusebio devastante boys devastante e non se escono le stelle si ragazzi e magari magari speriamo bene schermare a certo non la vediamo subito eusebio ma vediamo subito guarda con dei tuoi gli altri giusto conosciuto stasera il nuovo evento e magari vizzer 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 adesso c'è il quale del team 2 ragazzi ma le acco sono quelle del team 2 quelle del team 1 no quelle stavano se sbaglio o no niente non me lo vuole dare ragazzi si c'è la mini release ma tu ti tocchi a cavolo le van dyke questo stranissimo le mini release arriveranno quelli che non sono ancora usciti ragazzi si domenica sicuramente domenica domenica il mini release è roba di domenica sicuramente ragazzi sta 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 ragazzi lo metteranno il mio figlio ea che pote manco da brutta carta comunque il design è bello ragazzi anche quest'anno veramente tanta roba mamma mia no player niente non esce nessuno sbc nessuno sbc ma nel negozio sta anche il gioco del col token sta il player col token negozio è quello magari ce lo stucchiamo l'hai trovato su lì ok con le dinamiche ok ok ci sta ci sta no ragazzi niente giocatore nessun giocatore nessun player evidentemente escono domani ragazzi sicuramente ma usciranno domani sicuramente ragazzi sadios è vero rushford quello è bello daniel pesce bello però potevano metterlo 4 4 potevano metterli 4 4 comunque si è bello che ma 4 4 si 4 4 server off shit questo buttiamo sopra ragazzi mille date per il follow gentilissimo benvenuto il consiglio mi indica il pacchetto di 1500 ah caspita eeeh date carta qualcosa lo shoppi ah magari ci vabbè il showdown è ridicolo ragazzi sarà il showdown un absolument è ridicolo